motori prenderà nuovamente il via nel 2021 lo slalom di sciacca la tradizionale manifestazione automobilistica che vede nel monte cronio il suo set naturale si riparte cambiando organizzatore e denominazione la prima edizione del nuovo corso è stata programmata per il prossimo 27 giugno 2021 la manifestazione sarà organizzata dalla pro racing in collaborazione con l'associazione sportiva direttantistica monte cronio gli organizzatori hanno già messo in moto la macchina dell'evento lo slalom almeno per quanto concerne quella che sarà la nuova prima edizione non avrà nessuna validità ai fini del campionato regionale ufficiale sarà inserita nel circuito dei campionati probabilmente a partire dall'eventuale seconda edizione si ripartirà da capo insomma con l'intenzione di migliorare la gara sia dal punto di vista del percorso sia da quello organizzativo gli stessi promotori tra l'altro hanno già fissato in calendario un'altra gara nella zona grigentina ossia lo slalom di naro che si svolgerà il 30 ottobre 2021 come si ricorderà l'ultima gara della per così dire precedente gestione è datata 2019 mentre nel 2020 la manifestazione è saltata soprattutto per motivi organizzativi e gestionali ma pure per lo scarso interesse istituzionale anche se probabilmente non si sarebbe disputata ugualmente a causa delle restrizioni che la pandemia da covid 19 ha poi imposto negli ultimi mesi fino al 2019 erano state proposte e svolte sei edizioni del memoria al pasquale tacci organizzate dal team palichè con il comando nicola cirvito coadiuvati dall'associazione sciacca corse di peppaolo cravotta a sciacca gli appassionati della storica e tradizionale manifestazione sono tantissimi una gara che anche in tempi recenti ha riunito al via tantissimi partecipanti e spettatori